150 ragazzi, forse di più, nell'aula magna dell'istituto omnicomprensivo D'Agnillo. La prevenzione e il contrasto alla piaga del cyberbullismo si fonda anche su iniziative come quella di Agnone. A promuoverla l'associazione Stop Bullismo ODV, che ha potuto contare sul patrocinio di provincia di Sernia e comune. L'osservatorio della scuola, l'approccio psicologico e psicoterapico, il focus di chi si occupa, magari da genitore, delle persone più fragili e quindi più esposte alla pericolosa deriva, l'apporto delle forze dell'ordine. Sono le tipologie di contributi unite da un filo conduttore e al contempo obiettivo, la divulgazione e la promozione di misure e comportamenti atti al rispetto di se stessi e degli altri. Certo, il bullismo e il cyberbullismo sono purtroppo due fenomeni che coinvolgono molti studenti delle classi delle nostre scuole del Molise, ma delle scuole di tutta Italia. È assolutamente un problema di educazione e deve essere condotto da tutte le istituzioni scolastiche, istituzionali come enti e dalle famiglie. Quindi è un lavoro che si deve fare insieme perché questi ragazzi rappresentano il nostro futuro e quindi devono essere educati ad utilizzare in modo appropriato tutti gli strumenti che l'epoca moderna mette a loro disposizione e soprattutto deve educarli ad avere comportamenti leari verso i propri amici. Per quanto riguarda i ragazzi, il messaggio da proporre è quello di parlarne e anche di lavorare sulla parte passiva che diventi parte attiva, cioè tutte le cose che loro vedono bisogna denunciarle, bisogna denunciarle alle forze dell'ordine, delle associazioni, anche al comune, a tutti. Queste giornate come oggi sono importanti per mandare un bel messaggio di prevenzione contro il bullismo che è una forma di violenza. Annualmente ci sono dei fondi ministeriali che arrivano per il tramite dell'ufficio scolastico a tutte le scuole della regione proprio per poter lavorare, per realizzare laboratori, attività anche con esperti in materia, le forze dell'ordine, in particolare la polizia postale, proprio per cercare di gestire nel migliore dei modi possibili questo fenomeno.